Giulianova spoltore per la riapertura del Fadini bagnata nel migliore dei modi possibile ma andiamo per ordine il Giulianova assente alla barba spoltore senza capitano di Camillo espulso nella gara interna con il Penne Cerasi conferma l'undici di setti giorni orsono con le eccezioni di Giuseppe in corsia sinistra difensiva 3-5-2 che diventa 5-3-2 in fase di non possesso per Del Gallo con tre cambi per reparto Vitale, Tiberi e Chiacchiaretta ma andiamo per ordine come dicevamo a raccontare le azioni di giornata con un inizio di gara abbastanza blando e pochi veri cenni al diciassettesimo c'è il tiro di prima intenzione di Persiani con Palena che intercetta ancora Giulianova tre minuti dopo colpo di testa di Sissè con palla derivante dal quarto di cerchio che però finisce fuori si fa vedere anche Persiani al ridosso della mezz'ora il numero 9 non vede Sissè che preferisce andare al tiro l'ottimo posizionamento di Palena che neutralizza al minuto 33 l'episodio che cambia il registro di gara rovesciamento di fronte giallorosso Sissè si fa fermare da Palena che intercetta il pallone Buonavoglia va sullo stesso però va giù mentre Sissè riditiene la sfera l'arbitro non concede il vantaggio ed indica il dischetto calcio di rigore Buonavoglia dagli undici metri palla a sinistra e portiere a destra uno a zero dallo spottore si attende la risposta che però non arriva troppo timido troppo timido il team di Del Gallo che non trova spunti e così Giulianova continua a presiedere la metà campo avversaria e grazie ad una dormita del pacchetto arretrato sul grana trova il comodo e rapace raddoppio dal piede di Sissè che ringrazia due a zero e tutti a bere un tè caldo si passa alla ripresa grazie alle immagini di Maria Carannante e così al terzo troviamo subito la doppia occasione per Sissè che prima si fa fermare e poi indirizza fuori quella che poteva essere il gol che avrebbe praticamente chiuso la partita poi dieci minuti di spoltore con l'acuto di Selva Allegra che al settimo bacia appiena il legno traverso di nuovo Giulianova che riprende però in mano le carte del gioco e in tre minuti prima pareggio e poi supera il conto dei legni Persiani colpo di testa che colpisce la base del palo alla sinistra di Palena mentre al sedicesimo è la volta di Rinaldi che va a fermarsi sulla base del palo destro due minuti dopo Persiani cerca Gloria a fare una gran cavalcata ma è stremato quando gli si trova di fronte Palena si rivede lo spoltore Sicchetti al trentatresimo di testa centrale su Boccanera che ferma senza alcuna difficoltà poi nel finale la generosità del direttore di gara che comanda il secondo penalty per una caduta di Traini in area e anche stavolta buona voglia che così sigla la personale doppietta che chiude i conti e partita 3 a 0